Il ricco si perde quando è duro di cuore. Questa parabola è giustamente una delle più note del Vangelo e ha un messaggio particolare, efficace e attuale per il nostro tempo dove proprio in quella parte di mondo dove abbonda la ricchezza e la sazietà si afferma che l'inferno è vuoto. Il guai a voi di Gesù rivolto ai ricchi mostra qui la sua ragione profonda. La ricchezza infatti è un rischio per la salvezza eterna dell'anima e Gesù lo ribadisce in più occasioni nel suo insegnamento. Eppure non è la ricchezza in quanto tale a essere condannata ma il suo uso egoistico. Se il ricco fosse stato generoso con il povero Lazzaro, si sarebbe salvato. In ultima analisi, il giudizio di Dio è sul cuore umano. Se è aperto all'amore di Dio e del prossimo, allora ottiene misericordia. Ma chi ha il cuore di pietra fino a farsi superare dalla pietà dei cani si espone al più tremendo dei pericoli. La proposta del Vangelo non è certo il pauperismo a tutti i costi, ma piuttosto l'altruismo e la generosità nella gestione dei propri beni sia materiali che spirituali. Dio vuole che dimostriamo con i fatti che fra di noi siamo fratelli. Nell'aldilà non si porta nulla di materiale. Uno degli insegnamenti su cui Gesù ci invita a riflettere è la provvisorietà della ricchezza. Egli lo ripete in diverse occasioni. La vita umana non può essere resa sicura dai beni come tutti siamo in grado di verificare con la nostra personale esperienza. Il rovescio economico è una possibilità tutt'altro che remota. E quando anche riuscissimo a difendere o persino a moltiplicare le nostre ricchezze non è detto che possiamo conservare la salute fisica e mentale. Infine, chi potrebbe allungare di un solo istante il tempo della vita che Dio ci ha dato da amministrare? Ma anche se una persona vivesse a lungo ricca e felice arriverebbe tuttavia il momento in cui deve lasciare tutto. Nell'aldilà non porterà nessun bene materiale e nessun mundano riconoscimento. Davanti a Dio compariremo in tutta la nostra povertà esistenziale e le buone opere saranno l'unico titolo di merito che potremo presentare. Nessun ricco, nessun potente, nessun grande di questo mondo si inluda di poter essere eterno. Tutto passa. Soltanto il bene compiuto resta per l'eternità. Nell'aldilà la condizione di vita è definitiva. La parabola del povero Lazzaro non ci vuole certamente descrivere nei particolari la condizione di colui che si trova all'inferno. Il suo ammonimento fondamentale riguarda il rischio della perdizione eterna per chi non si apre all'amore dei fratelli. Tuttavia, possiamo cogliere dalla viva voce di Gesù alcuni insegnamenti preziosi che oggi a volte sono sorvolati. Gesù qui afferma esplicitamente che l'inferno esiste ed è abitato. In particolare, vi è immerso un uomo che ha mostrato un cuore duro verso il fratello indigente. Si tratta di ammaestramenti che Gesù ribadisce altrove e che fanno parte di quelle verità di fede che ogni cristiano deve accettare. Qualsiasi tentativo di svuotare di significato un così chiaro magistero risulta patetico e ridicolo. Inoltre, la condizione eterna di perdizione e definitiva è immodificabile. Col momento della morte si chiude il tempo delle scelte possibili. Ogni uomo fin dal momento della sua morte riceve nella sua anima immortale la retribuzione eterna in un giudizio particolare che mette la sua vita in rapporto a Cristo per cui o passerà attraverso una purificazione o entrerà immediatamente nella beatitudine del cielo oppure si dannerà immediatamente per sempre. Catechismo, Chiesa Cattolica, riferimento 1022 E questa vita è il tempo datoci per la salvezza. Nel momento della morte l'uomo entra nell'eternità con quell'atteggiamento verso Dio che si è costruito durante la vita. È dunque nell'arco dell'esistenza temporale che ci è dato di costruire il nostro destino eterno. Una volta scoccato l'ultimo istante i giochi sono fatti per sempre. È fuori dall'ambito della fede chi pensa che sia possibile una conversione anche dopo il termine della propria vita. Il giudizio divino avviene nell'attimo della morte e la sentenza è definitiva e irrevocabile. Questa prospettiva spaventa l'uomo d'oggi che ondeggia tra il bene e il male e che è alieno da scelte definitive. Tuttavia conferisce alla vita sulla Terra un carattere di estrema serietà. Essa è un'occasione unica che si vive una sola volta. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto sono gravidi di eternità. Ti angoscia una prospettiva del genere? Certamente il solo pensiero che il giudizio finale sulla vita sarà irreversibile non lascia dormire sogni tranquilli. Tuttavia non si tratta di un giudizio improvviso. Esso ti è anticipato dalla coscienza in ogni azione che compi. Cerca di agire in modo tale che la voce interiore di Dio ti approvi. Questo è il segno che sei sulla buona strada ed è un incoraggiamento a perseverare senza tentennamenti. Il benessere spesso soffoca Dio. La parabola del ricco e pulone ci invita anche a meditare sulla nostra società nel suo complesso. Il benessere crescente ci ha resi insensibili e ci ha impoverito spiritualmente. La ricchezza rischia di prendere il posto di Dio e di alimentare una visione atea e materialistica della vita. Sulla pericolosità che comporta l'abbondanza dei beni materiali non abbiamo riflettuto a sofficienza e ora ci troviamo di fronte a una delle più grandi apostasie della fede che il cristianesimo ricordi. Si fanno molte diagnosi sul fenomeno della secolarizzazione cioè della perdita di una visione spirituale e trascendente della vita. Ci si chiede come mai in pochi decenni un così vasto numero di persone abbia abbandonato la fede per rivolgersi a una concezione pagana della vita. Forse la risposta è molto più semplice di quanto non si voglia credere. L'eccessivo benessere ha soffocato Dio. Il denaro è divenuto il nostro padrone. Il mondo dei poveri è più credente e più felice. Mi chiedo che abbia bisogno di una maggiore pietà se chi muore di fame o chi muore di troppo cibo. Se chi ha il denaro ma non ha Dio oppure che a Dio ma manca del necessario. Una costatazione va fatta. La società dei ricchi e puloni è atea e disperata. Quella dei poveri Lazzari possiede certamente meno sicurezze umane ma ha più fede, più speranza e più serenità. La fede è la virtù più importante. La virtù che Gesù ci ha chiesto nel corso della sua vita terrena è la fede nella sua parola e nella sua persona. La virtù della fede è così importante che da essa dipende la salvezza eterna di ognuno di noi. Chi crederà sarà salvo ma chi non crederà sarà dannato afferma Gesù inviando gli apostoli in tutto il mondo a predicare il Vangelo. Potresti obiettare che in altri testi appare invece il primato della carità espresso nel precetto dell'amore con tutto il cuore nei confronti di Dio e del prossimo. Anche San Paolo ci ricorda che fra tutte le virtù la più grande è la carità la quale non passerà mai mentre la fede è destinata a scomparire quando vedremo Dio faccia a faccia. Eppure qui su questa terra la fede è la porta che introduce nel mondo soprannaturale. Non potremmo certo amare Cristo se non credessimo in Lui. Senza la fede la vita cristiana non incomincia neppure. Se nel cammino spirituale la carità è come il tronco su cui si innestano i rami delle altre virtù la fede a sua volta è la radice dalla quale tutto l'albero trae alimento. In questo tempo di silenziosa apostasia e di grandi smarrimenti è più che mai necessario risvegliare la fede spenta di molti e invocare il Signore perché la protegga e la aumenti nei cuori sfiduciati. La fede è fiducia in Dio. Vorrei sottolineare un aspetto della fede che è basilare. Si tratta della fiducia che dobbiamo avere in Dio. Credere non significa solamente accettare la verità che Dio ci ha rivelato in Gesù Cristo ma entrare con Lui in un rapporto di totale fiducia e amicizia. San Giovanni l'Evangelista al riguardo ci esorta a credere all'amore che Dio ha per noi. ecco è proprio in questo che noi manchiamo. Pur dicendo di credere e di accettare tutte le verità che la Chiesa ci propone noi non crediamo fino in fondo che Dio ci ami ci perdoni e ci protegga. Questo avviene in modo speciale quando Dio ci mette alla prova e vuole verificare la nostra fedeltà oppure quando si fa attendere nell'ascoltare le nostre richieste allora diciamo che Dio non ci sente e non ci vede oppure che si è dimenticato di noi. Dio prova la nostra fiducia in Lui ma se la trova salda non esita a compiere per noi i più grandi miracoli. La fede ti dona la luce di Dio. L'uomo di fede vede cose che gli altri non vedono e che non potranno mai vedere. La fede ti dà una visione soprannaturale della vita mostrandotela dal punto di vista di Dio. È una luce che si accende nella notte e che ti svela un mondo che diversamente rimarrebbe immerso nell'oscurità. Senza la lampada della fede la vita è un cammino avvolto nel buio come quelle strade che non sai da dove vengono e dove vanno. Procedi a tastoni senza renderti conto se qualcuno ti è a fianco e ti accompagna. A ogni tuo passo incombe il pericolo di uscire fuori strada e di cadere nel precipizio. Con la luce della fede invece sai da dove vieni e dove vai. Il cammino procede sicuro lungo la direzione che ti viene continuamente indicata. Al tuo fianco scorgi la divina presenza di colui che mai ti abbandona e che è sempre pronto a prenderti per mano. La fede ti dona la forza di Dio. Gli uomini di fede escono vittoriosi dalle più aspre battaglie. Quanti specialmente lungo la via della santità vengono distolti e sviati dal maligno con l'arma dello scoraggiamento. Quante volte il tentatore vince perché tu getti la spugna. Egli ti ha convinto che sei troppo debole che non vale la pena di combattere che non ti riuscirà mai di vincere. Satana trionfa su di te perché riesce a carpirti la fede. Egli mina nel tuo cuore la fiducia in Dio inducendoti a diffidare della sua bontà e del suo intervento. Ti convince che sei solo e senza vie di uscita. Ti avvolge nella tenebra dell'abbandono e della disperazione. Riesce persino a farti rinunciare a invocare Dio per impedire che scenda nell'abisso ad aiutarti e a salvarti. Ma chi resiste saldo nella fede non verrà mai scosso da nessuna bufera satanica. Guarda Gesù con quale fortezza nel deserto e nel Gezzemani ha resistito all'attacco scatenato del principe del male. Ammira la fortezza di Maria ai piedi della croce che lotta e crede contro ogni umana speranza. Imita gli innumerevoli martiri della storia cristiana che per la fede non hanno esitato a sacrificare la loro vita qui sulla terra. Tutto è possibile a chi crede. Forse ti sei chiesto che valore dare a questa straordinaria affermazione di Gesù secondo la quale tutto è possibile a chi crede. È un'espressione da prendere alla lettera oppure soltanto un modo di dire? Se tu osservi la vita di molti credenti ti renderai conto che Dio ha compiuto meraviglie con tutti coloro che hanno confidato in Lui. Quando una persona si affida completamente a Dio lasciandosi condurre da Lui nel compimento della propria missione allora Dio usa alcuni uomini come degli strumenti per realizzare le imprese più incredibili. Guardando alla vita di numerevoli santi ti rendi conto che hanno realizzato opere che sono ben al di là delle possibilità di un essere umano per quante qualità naturali egli abbia. Nelle mani di Dio l'uomo è in grado di conseguire qualsiasi traguardo. Spesso questo avviene con le persone umanamente meno dotate ma che sono rimaste salde nell'umiltà e nella fiducia in Dio loro luce e loro forza. La fede ti mantiene nell'umiltà. Gesù però nel brano di Vangelo ci avverte che dopo aver compiuto le imprese più grandiose sul piano sovranaturale dobbiamo considerarci dei servi inutili e dire abbiamo fatto quanto dovevamo fare. E la fede ci consente di avere su di noi stessi questo sguardo di umiltà. infatti non è forse vero che senza Gesù noi non possiamo fare nulla? Se lui non avesse sostenuto la nostra debolezza e dato efficacia al nostro lavoro non avremmo forse lavorato in vano? E non è forse vero che altre persone al nostro posto avrebbero fatto meglio di noi? E la fede che ci dona questo sguardo limpido su noi stessi e ci mantiene nella gioia della nostra piccolezza.